Dopo la netta affermazione contro Empoli dell'Opening Day di Moncalieri, la Magnolia concede il BIS in terra lombarda. Questa volta è Costa Masnaga a farne le spese. I Fiori d'Acciaio, con una gara attenta e spettacolare, superano le ragazze di Coach Seletti con il punteggio di 93-98 dopo un tempo supplementare. Primo quarto favorevole alle padrone di casa, che chiudono 23-17. Al riposo lungo il Costa è sopra di quattro lunghezze, ma il parziale di 18-20 è favorevole alle Campobassane. Nel terzo periodo le Lombarde sono ancora avanti per 66-60, ma il quintetto di Mimmo Sabatelli non si perde d'animo e riesce ad agguantare l'83 pari. Nell'Overtime, la molisana Magnolia sorpassa le avversarie con una condotta di gara esemplare e un parziale di 10-15. Grande esordio per la statunitense Gray, giunta da poco in Molise, che realizza 24 punti. In doppia cifra anche Prema Sunaz.